Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. L e sono qui in compagnia di... Inizio Allora ragazzi, abbiamo deciso di fare questa raccolta, potremmo dire, all'interno della quale raccoglieremo i 5 giochi che secondo noi hanno una trama migliore. Al quinto posto troviamo Fallout New Vegas. La cosa che più mi è piaciuta della storia è il fatto che sia veramente molto originale. Noi non saremmo nient'altro che un postino il quale viene intercettato dai mercenari, ci sparano colpi in testa e quindi noi non solo siamo andati per morti, ma mi sa addirittura siamo seppelliti alla cazzo di cane, tipo ancora mezzi sopra terra diciamo. La parte più bella è che non arriverà nessuno a salvarci, vabbè sì, al massimo arriverà un robot che ci salverà e ci porterà da un dottore dopo che ci hanno sparato. Cioè non so come abbia fatto a sopravvivere, ma quando sei in una specie di apocalisse è normale che tu trovi armi fatte male o cose varie, perciò quindi non c'è nulla di sbagliato. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta è come procedere la narratività del gioco. Infatti dovremo nella prima fase del gioco andare avanti a investigare su chi siamo noi, siccome abbiamo perso la memoria, e soprattutto su cosa portavamo e perché lo portavamo, per chi soprattutto. E questa qui era veramente una fase di gioco molto importante. Al quarto posto troviamo i gladiator. Il gladiator è un gioco per telefono dove siamo protagonisti noi che siamo un campione in un'arena di gladiatori e ci troveremo all'ennesimo scontro per contenderci il titolo di campione. Quando stiamo per ucciderlo ci rifiutiamo per pietà e verremo pugnalati alle spalle dallo stesso stronzo che volevamo uccidere. Tuttavia nell'aldilà ci saranno degli dei Mercurio e Plutone che scommetteranno tra loro la nostra moneta di sepoltura e Mercurio Barando vincerà che ci riporterà in vita tramamente e ci ritroveremo principianti di nuovo nella stessa arena di gladiatori e verremo aiutati da un mercante misterioso. Al terzo posto troviamo Fable 2 Mi è piaciuto molto la storia di Fable 2 sia per via della sua delicatezza che per via della trama che è veramente molto coinvolgente. In effetti è simile a New Vegas. Noi inizieremo il gioco, il gioco che saremo dei bambini e verremo convocati al castello di Lord Russien cioè il barone di questa città chiamata Powerstone il quale capendo in un modo o nell'altro che noi eravamo degli eroi cioè delle persone che secondo la leggenda avrebbero dovuto fermarlo lui ci spara e ci fa cadere tipo da una torre abbastanza alta. Riusciamo in un modo o nell'altro a sopravvivere e quindi della trama proseguirà con noi che dobbiamo cercare di sconfiggere questo dittatore che voleva il quale la parte più divertente che non è il classico super cattivo che vuole distruggere il mondo perché bla 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 è cattivo e basta. All'inizio lui potremmo anche dire che era un personaggio abbastanza buono e tuttavia va un po' fuori di testa quando la moglie e la figlia gli muoiono di malattia infatti Lord Russien aveva intenzione di distruggere questo mondo per mezzo di un antico strumento chiamato la Marra Torre tuttavia non voleva distruggerlo e basta ma Visi voleva anche ricostruirne uno migliore cioè distrugge il mondo vecchio che secondo lui era corrotto per crearne uno più felice. Secondo posto troviamo Undertale Undertale è un gioco con la grafica retro però nel mondo di Undertale è stata combattuta una guerra tra mostri e umani dove alla fine gli umani hanno vinto e hanno chiuso i mostri, richiusi i mostri in un underground con una barriera però però c'è un passaggio tra il mondo degli umani e quello dei mostri nel mondo Airbot e un umano che passava di là è caduto nell'undryground noi saremo questo umano che dovrà passare nell'undryground per tornare nel mondo degli umani però la cosa bella di questo gioco è che potremmo essere pacifisti con tutti, normali oppure essere dei bastardi senza cuore ad uccidere con crudeltà addirittura Papyrus. Al primo posto troviamo Rule of Rose Rule of Rose è un vecchio gioco per PlayStation 2 il quale tuttavia è, come dire, nonostante sia un po' carente dal punto di vista del gameplay ha comunque una delle storie che è a mio parere una delle più belle mai create nei videogiochi infatti all'inizio del gioco potrebbe essere veramente molto complicato riuscire a capire dove ci si trova e perché ci si trova qui proprio perché non sarà nient'altro che un'avventura avventata tutta quarta nel subconscio della protagonista, cioè Jennifer la quale praticamente si ritrova in questo specie di ambiente molto strano che varia dall'essere un dirigibile a un orfanotrofio all'interno della quale troverà tutti questi diversi mostri che cercheranno in un modo o nell'altro di ostacolarla. E ragazzi la top 5 finisce qui e ditemi voi se volete altre top 5, top 10, top 20, top 100 di qualsiasi cosa vogliate e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ciao a tutti